Bentornati sul canale TuttoTech. Oggi volevamo darvi un'alternativa a come impostare una sveglia impostando la radio. Attenzione, facciamo una premessa. Non è che proprio vi parte la sveglia, vi chiederà comunque di poter abilitare la radio, se per caso volete far partire la radio, perché poi da questo video che vi stiamo facendo vedere c'è possibilità di far partire tante altre cose. Diciamo che questo video è un'errata courage del precedente. Vi mettiamo qui in alto il link da poter cliccare sull'altro e vedere, però l'altro purtroppo con la funzione sveglia la dovete abilitare voi. Quindi ancora peggio di questo. Studiando un attimino tutte le varie impostazioni che si potevano fare, abbiamo trovato questa alternativa col dispositivo. Detto questo, iscrivetevi al canale ragazzi, lasciate un bel mi piace e ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Adesso noi lanciamo la nostra sigla come consuetudine, dopodiché vi lasciamo al video dimostrativo. La sigla! Entrate nell'app Alexa, cliccate in alto a sinistra i tre trattini e cliccate su routine. Qui gli diciamo che dobbiamo fare una nuova routine, quindi il tasto più in alto a destra. Inserisci il nome della routine. Mettiamo sveglia, avanti. Quando questo accade? A differenza dell'altra volta. Questa volta clicchiamo su programma, alle ore, selezioniamo l'orario. Quindi alle ore facciamo seleziona, sono le 18 e 19, facciamo 18 e 30. Poi selezioniamo dalla voce ripeti, giorni, giorni feriali, avanti, aggiungi un'azione. Tasto più, scorriamo, skill, le tue skill. E qui seleziono radio dj, tasto avanti, selezioniamo il dispositivo, l'ultima voce in basso, facciamo questo. Fatte queste operazioni, clicchiamo in alto a destra salva. E abbiamo impostato una nuova routine. Ora, alle 18 e 30, mi chiederà la conferma se voglio avviare questa skill. Diciamo che come sveglia, purtroppo all'inizio verrete svegliati dal rumore di Alexa, dalla voce di Alexa che vi chiederà la conferma. Voi gli direte di sì e questa procederà a farvi ascoltare la radio. Purtroppo questa è l'unica pecca di questa funzione. E ora andiamo a vedere il dispositivo come si comporta. Bentornato sul radio dj, vuoi riprendere l'ascolto della radio? Oppure vuoi ascoltare una delle nostre radio musicali? Riprendi. Ora in onda, Pinocchio. Yoga? No! Se per caso non siete veloci nel dire ok riprendi, purtroppo potrà capitare questo. Bentornato sul radio dj, vuoi riprendere l'ascolto della radio? Oppure vuoi ascoltare una delle nostre radio musicali? Ti ricordo che sul radio dj puoi ascoltare la diretta radio o una delle nostre radio musicali. Puoi anche chiedere qual è il programma o la canzone in onda mentre le ascolti. Per queste, e altre informazioni, in ogni momento usa frasi come, Alexa, chiedi al radio dj aiuto. Ora, per iniziare, cosa ti andrebbe di ascoltare? Ed eccoci qua ragazzi. Se avete un sonno un po' profondo direi che la prima parlata di Alexa magari non vi sveglia e quindi vi andate a sentire un po' una pappardella lunga prima di far partire la radio. Purtroppo questa è il limite presente in questa funzione. Diciamo che non è proprio una sveglia con radio nativa di Alexa ma è un adattamento un po' forzato che quindi ha i suoi contro purtroppo. Sì, diciamo che questa funzione potrebbe tornare utile se per caso siete in bagno, avete un dispositivo Alexa in bagno e mentre vi state facendo la barba o vi state preparando per poter andare via volete comunque ascoltare la vostra radio preferita. Come sveglia? Sì, se avete il sonno leggero allora gli date ok continua. Provate ragazzi. Noi più di questo non siamo riusciti a fare. Abbiamo trovato questa alternativa. Ci dispiace perché pensavamo che avesse qualche... Funzionasse un po' meglio. Sì, funzionasse un po' meglio però purtroppo abbiamo trovato tra virgolette questo ostacolo. Ve lo riproponiamo dopodiché usatelo voi nella maniera migliore che credete. Chiediamo scusa perché pensavamo che partisse direttamente la radio e invece no, chiede l'abilitazione. Ricordatevi ragazzi di dare un'occhiata all'info box dove troverete tutti i link dei prodotti che o abbiamo già testato e di cui trovate i relativi video nel canale o che desidereremo acquistare magari prossimamente. Per questo video è tutto. Al prossimo. Ciao ragazzi. Ciao.